La Nissa ha tesserato il centrocampista Matias Morales, classe 91 argentino, e il difensore centrale Mustafa Sané, ex atletico Nissa, 28 anni senegalese, un giocatore in grado di adattarsi anche nel ruolo di terzino destro. Il direttore sportivo Massimo Ferraro è al lavoro per completare l'organico, tra i prossimi obiettivi anche un attaccante. Intanto prosegue il dialogo a distanza tra la Nissa e l'ex presidente Arialdo Giammusso, che ieri ha diffuso un comunicato di risposta ai commenti riguardanti il post dell'attuale Massimo Responsabile Sergio Iacona, risalente alla scorsa settimana sulla pagina social Biancoscudata. Facendo riferimento al lavoro fatto per riportare la Nissa ad essere una squadra rispettata in eccellenza, Giammusso ha annunciato che in settimana incontrerà Iacona per un chiarimento personale.